Ho deciso di trasferirmi qua esattamente quattro anni e mezzo fa, a settembre, ho preso questa decisione, diciamo. E rispetto all'Italia, fare una situazione del genere, difficoltà, differenze. Ci sto lavorando, perché diciamo è il 50% del mio sogno da realizzare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi è chiaro che più sale il numero delle copie dell'edizione e quindi ipoteticamente la prima di 200 avrà più valore sicuramente della... ... 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